Governo metropolitano, migliori servizi e meno costi per cittadini, famiglie e imprese. Questo è il convegno promosso dalla provincia di Milano sull'istituzione della città metropolitana. Decreto Salva Italia ha saltato, la nuova legge non prevede proprio più le province, ma ne prevede la cancellazione. E quindi come si fa? Ma credo che vi sia ancora da comprendere le motivazioni che la Corte Costituzionale a giorni dirà per supportare la sentenza che era quasi scontata. Perché aver pensato il Governo Monti di poter fare una riforma di tipo costituzionale con un decreto legge era veramente straordinario. Adesso, in forza di quello che sarà la precisazione delle ragioni della Corte Costituzionale, il Governo e il Parlamento pensano di avviare una legge di tipo costituzionale e poi una legge ordinaria, anche perché vi sono 18 province oggi commissariate dove i cittadini sono stati privati del diritto del voto. Noi crediamo che non abbia nessun senso levare ai cittadini la possibilità di scegliere attraverso il voto. Non vi è nessun vantaggio economico, nessuno. Se gli italiani oggi desiderano un cambiamento è soprattutto il cambiamento della legge elettorale per il Parlamento, dove c'è stato negato di poter scegliere qualunque cosa. Mi dica se si adottasse ad esempio la soluzione che era prevista nel Salva Italia, si sarebbero riuniti in una sala i sindaci e i consiglieri di 134 comuni, cioè 4.500 persone, e chi avrebbe scelto i nomi del Governo metropolitano? Le segreterie dei due più grandi partiti che sarebbero arrivate con una lista e ci si alzano la mano. Ecco, il cittadino non vuole questo. Il cittadino giustamente, io sono tra questi, mi sento cittadino in pieno, desideriamo poter esprimere le nostre scelte attraverso il voto. Sottrarre questo diritto al voto è una cosa che veramente è inaccettabile. Quali sono i risultati del sondaggio presentato oggi? Un grande interesse verso la città metropolitana emerge da questo sondaggio scientifico su di un campione rappresentativo degli abitanti della provincia di Milano. Un grande interesse per la città metropolitana, la voglia che la città metropolitana si occupi soprattutto di lavoro, ma anche di trasporti e sicurezza. Una voglia che il Governo della città metropolitana sia rappresentato da chi rappresenti tutti i comuni e poi una gran voglia di eleggere direttamente i rappresentanti della città metropolitana. La gente vuole eleggere direttamente tutto, vuole armarsi di questo diritto. Poi magari non va a votare, però vuole armarsi di questo diritto. Grazie.